50 Bresciani in sella alla loro bici per un viaggio tutto all'insegna dell'ambiente e della pace. Per il cinquantesimo della Marcia della Pace, il 25 di settembre, da Piazza della Loggia, i 50 ciclisti Bresciani partiranno con l'unico ed importante obiettivo di arrivare il 24 settembre per la Perugia Assisi. Il percorso, diviso in tre tappe, sarà di 500 chilometri, che i ciclisti affronteranno senza agonismo ma in totale spirito di gruppo.